Ci sono tante cose che ho apprezzato di questo capitolo, a partire proprio dal titolo. Messi, mi piacerebbe chiedere a Leichiro Sensei cosa si è fatto per delineare questo personaggio. E forse Messi, per sua sfortuna, ha paura della mafia italo-americana all'interno del mondo di Naruto. Vi faccio capire cosa intendo. Come ci raccontava Miyok, Rufy ha segnato quel 2-1 favoloso scartandosi due difensori del Napoli. Venendo buttato a terra dal Big Mom. Mentre si rialzava, senza perdere palla, la corsa finale, la corsa tombale totale è assegnato. E che combattimento, amici miei! Sguainano le spade sul palo opposto del portiere. I calci pugni, ancora e ancora i spade volanti, i calci pugni, Messi su Versailles. Ma anche il momento in cui Neiji Yuga spedisce la pergamena. Altissimi livelli ragazzi, proprio altissimi livelli. Questo 986, uno dei capitoli più brutti che abbiamo letto, della mia storia da lettore. Me lo so letto in un giorno solo. E la cosa interessante del capitolo 991 sta proprio nel fatto che Kaido è stato costretto a rimanere con la forza che era all'interno del Barcellona. Perché? Perché si chiede Big Mom? Perché è solo lui! È soltanto lui! È forte! Potente! Tant'è vero che gli dice, sì, hai perso. Hai perso non perché hai perso, ma perché Messi si è fatto rubare la scena da Frankie. Temevo infatti che Oda avesse intenzione di fare, sa, di fare un intero pippone da Frankie. Ridimensionando quindi poi incredibilmente il potere di Cosa Nostra negli Stati Uniti. E poi ci sono i samurai, fieri, indomiti. Senti proprio il puzzo nauseabondo di questi oderi rossi, horrificanti, orrorifichi, orrendi, che invadono quest'isola. Si ha un supporto tecnologico derivante dagli esperimenti della Seconda Guerra Mondiale. I calci, i pugni, le spade, pugni! Bellissimo! I calci, i pugni, questi tre cogliò, questi tre stro, questi tre mi samurai. Con sprezzo del pericolo fronteggiano Kaido e lui dorme. Per venti e passacapitoli Kaido dorme. E durante la notte sogna di vivere un'ora. La notte dopo sogna di vivere un giorno. La notte dopo sogna di colpi energetici. Kaido era un uomo che sognava facile. Il problema è che se tu spari al Kaido la persona muore. Quindi è una cosa veramente orrificante, orrorifica. In ogni modo, prima di salutarci... Vocamente ci doveva stare un evviva di Silvio, ma dopo che sia esploso così forse... La vera grande abilità di Rufy non risiede nella D, non soggiace nella D, e non sta nemmeno nei meandri più oscuri della D. La vera grande abilità di Rufy è il potere di Cosa Nostra. Evviva!